Puntata di SmackDown che si apre con Jimmy Uso, che torna di gran carriera dopo Bad Blood, per dirci che gli era mancato dare il benvenuto al pubblico a Friday Night SmackDown. Jimmy è stato fuori sei mesi per colpa del suo fratellino Solosikoa, che però non ha avuto le palle di affrontarlo faccia a faccia, ha dovuto attaccarlo alle spalle insieme alla sua Bloodline 2.0. Quindi è ora che il fratello maggiore dia una ripassata al fratello minore, e lo farà stasera nel main event. Roman Reigns accoglie il ritorno di Jimmy Uso, dicendogli di non aver avuto problemi a lasciare spazio al cugino, anche se di solito ama aprire le puntate di uno show, e poi ha chiesto al pubblico di riconoscere Jimmy Uso, bellissimo questo segmento, proprio da babyface devo dire. Roman gli ha detto che non è un fratello maggiore, quindi non capisce il tipo di odio che sta provando in questo momento Jimmy Uso, e non è nemmeno un wise man, almeno per il momento. Lui è il tribal chief, e fa ciò che va fatto solitamente. Insieme hanno avuto soldi, potere e rispetto, perché tutti avevano paura della Bloodline originale. Ma nonostante tutto ciò, odia non avere la situazione sotto controllo. Ha detto di essere il migliore di sempre in passato, e lo crede veramente. E i fan quando puntano il numero uno al cielo, quando lo riconoscono, è perché accettano questa cosa. Perché loro sono i ones. They are the ones, non so come tradurlo onestamente. E Jimmy ha risposto, ok, ma non lo siamo più. Perché quello che vede è un tribal chief, ma senza tribe, e senza Lula Fala al collo. È tornato per aiutarlo a Bad Blood, ma sono solamente in due, e contro questa Bloodline non possono farcela. Hanno bisogno di un ulteriore aiuto, e lì il pubblico ha iniziato a cantare Yeet, e Rainsley ha risposto, No Yeet. I fan ci sono rimasti ovviamente male, e Jimmy ha concluso dicendogli che sarà per sempre il suo tribal chief, ma per ora è l'unico che riconosce Roman come tale. Dai Jay, ti prego, veloce, e non tirate in mezzo co di rozzo. LA Knight contro Carmelo Ace, match valevole per il titolo degli Stati Uniti d'America, vittoria per LA Knight, grazie alla sua BFT. Tra l'altro al volo, bellissima. Oh, Carmelo Ace mi fa piacere la BFT, davvero. Per quanto in passato l'abbia bistrattata, come la vende Him è incredibile. E comunque si ha decina di minuti di match, solito buon match di SmackDown, ma come lo erano Andrade contro Carmelo, per esempio. Non è durato poi molto, infatti Him non ha avuto poi chissà quanto spazio. Ovvia difesa titolata per la Megastar. Jimmy Uso incontra Cody Rhodes nel backstage, e proprio il campione ringrazia l'ex membro della Bloodline, con Jimmy che gli ha risposto Considerano un favore, ma non è aspettartene altri. E poi Cody gli ha detto che solo non è più la persona che hanno abbandonato tempo fa, Jimmy gli ha risposto che lo rispetta e tanti cari saluti. Lash Legend e i Jakara Jackson da NXT arrivano per la title shot, ai titoli di coppia femminili. Però Kevin Owens ha interrotto il tutto dicendo che non dovrebbe essere qui perché è stato sospeso, ma non gliene frega niente, vuole raccontare la verità su Cody Rhodes. È Cody Rhodes ad averlo tradito, non lui. È arrivato anche Aldis, hanno tagliato il microfono di Cody, di Kevin Owens, che poi è andato al tavolo dei commentatori prendendo le cuffie per concludere il suo discorso, ma l'American Nightmare si è presentato per la resa dei conti, è arrivata la security a dividerli, è arrivato anche Randy Orton, che ha cercato di fermare il suo compagno di coppia, KO, che però lo ha allontanato con una gomitata e di tutta risposta di Viper gli ha mollato un destro in bocca, stendendolo e lasciando Kevin Owens davvero davvero triste. Un faccino tutto corrucciato, sembrava Winnie Pooh. Match per i titoli di coppia, tre minuti, squoscione praticamente, delle campionesse, nonostante un dominio iniziale delle number one contender ai danni di Bianca Belerma, perché le hanno attaccate prima dell'incontro, poi alla fine è entrata Jade Cargill, hanno connesso la combo ginocchiata German Suplex e tante care cose. Erano presenti anche Piper Neven e Chelsea Green, ma non è che siano risultate poi così determinanti, anzi. Randy Orton chiede a Cody Rhodes di calmarsi e Nick Aldis ha suggerito al campione di concentrarsi su Gunther a Crown Jewel più che su Kevin Owens. L'Apex Predator ha poi suggerito a Cody Rhodes di andarsene perché può risolvere lui questa questione. E Aldis guardando Randy gli ha detto tu che dai consigli ad altre persone? Chi l'avrebbe mai immaginato? Nia Jax si presenta congratulandosi con Bailey perché è stata un'avversaria tosta a Bad Blood, però tutti sanno che non c'è una sola donna in grado di batterla, soprattutto Liv Morgan la distruggerà come ha fatto con la role model. E quando sconfiggerà la fidanzatina di Dominic, Tiffany Stratton potrà finalmente incassare la sua valigetta e schienare Liv per diventare campionessa. In realtà ha senso, quindi questo potrebbe allontanare il tradimento di Tiffany, non credo. Ma ad interrompere la campionessa ci pensa Naomi, dicendo alla Jax che è rimasta campionessa proprio per la presenza di Stratton, che l'ha aiutata ancora una volta. E poi la regina del glow le ha ricordato che non solo ha pinnato Miss Money in the Bank, ma ha pinnato anche lei e ha dichiarato di poterla battere ancora, e quindi match una contro l'altra a breve. Però è arrivata anche Liv Morgan insieme a Dom Dom e a Raquel Rodriguez, con Liv che ha detto che vuole solo controllare Nia Jax per vederla perdere stanotte, proprio come perderà Crown Jewel contro di lei. Ed effettivamente Nia Jax ha perso contro Naomi in un buon incontro, nulla di eccellente, nulla di terribile, durato anche qui una decina di minuti, con Nia Jax che era sulla corda per connettere la sua Anni Lator. Raquel Rodriguez ha distratto l'arbitro, Liv Morgan ha preso la valigetta del Money in the Bank di Tiffy, che era stata stesa poco prima da un calcio di Naomi, ha colpito Nia Jax, l'ha stordita, Naomi ne ha approfittato, l'ha presa e ha connesso una powerbomb, il classico segmento, l'unica mossa di sollevamento che riescono a fare praticamente su Nia Jax, la powerbomb quando è in piedi sul paletto. E conto di tre, vittoria per Naomi che schiena la campionessa. Dopo il match è arrivata anche Rhea Ripley, ha attaccato Raquel Rodriguez schiantandola contro le barricate, ha steso anche Nia Jax e Liv Morgan è scappata aiutata da Raquel con Dom che distraeva la mami. Indovinate un po', settimana prossima vedremo un match inedito a SmackDown. Carmelo Ace contro Andrade per la settima volta in due mesi. Sarà un bel match assolutamente, però va... che due colchio. Santos e Sgobar si lamenta perché il suo gruppetto non ha abbastanza occasioni e Aldis si è ricordato che ha perso un match per i titoli degli Stati Uniti, ma Santos ha detto parlavo di tutto il gruppo e allora settimana prossima i Garza sfideranno qualcuno, probabilmente i Motor City Machine Guns che vengono promotati poco dopo. Promotati. Promossi. Ma che come cazzo parlo? Promotati. Solo si codice Jimmy Uso potrà anche essere il mio fratellone, ma io sono tra i balcif e Jimmy mi riconoscerà. DIY Street Profits litigano nel backstage, ma Aldis chiama i soccorsi perché Kevin Owens stava spappolando Randy Orton nel parcheggio, ormai la sua zona preferita dove picchiare gli ex amici. E niente, segmento interrotto così dalla security e dal general manager. Solo si coa contro Jimmy Uso main event di serata mi fa molto ridere una cosa. Bello il segmento iniziale di Roman Reigns che dice Jimmy, riconoscetelo e Jimmy gli risponde sei l'unico tribal chief, ti riconosco solo io. Eh, però l'hai mollato caro Roman contro solo si coa, Giacob Fatuta, Madonga e Tongaloa. Infatti, per le intromissioni esterne Jimmy Uso viene sconfitto da solo. in un match che purtroppo non è stato niente di che. Forse è il peggiore della serata, oserei dire, una dozzina di minuti, molto lento. È anche vero che è il primo match di Jimmy dopo Verstelmenia 40, mi pare, ma purtroppo è un po' un trend dei match di solo si coa, non è che sia un animale sul ring, anzi. Comunque, nel finale, gli sgherri della Bloodline hanno distratto Jimmy Uso che è comunque riuscito a connettere un Samoan drop su solo si coa, è tornato sul paletto, Tamatonga ha distratto l'arbitro, Jacob Fatu ha fatto cadere Jimmy e solo si coa ha connesso Samoan Spike per vincere e chiudere la puntata più o meno perché dopo il match è arrivato Roman Reigns finalmente a salvare Jimmy, potevi anche assisterlo durante l'incontro come ho detto prima, però la superiorità numerica della Bloodline ha fatto soccombere anche il vero Tribal Chief perché nonostante i suoi superman punch sugli avversari, Jacob Fatu è rinvenuto, ha steso attaccando alle spalle Roman Reigns, ha steso con un superkick Jimmy Uso e poi Moonsault proprio sul gemello di Jay e Samoan Spike di solo su Roman Reigns con Jimmy che ha detto a Roman ci serve aiuto perché ovviamente l'inferiorità numerica c'è ed è evidente. Comunque, puntata di SmackDown onesta, niente di eccellente, è sempre bello vedere Roman Reigns, è bello vedere l'evolversi della situazione Cody, Kevin Owens e Randy Orton, secondo me questo porterà a un Randy Orton contro Cody Rhodes prima o dopo, per il resto non c'è molto da dire, stanno provando a costruire Crown Jewel in minima parte, vedremo Cody Rhodes a Raw, abbiamo visto Liv Morgan a SmackDown, fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo episodio, la vostra Settify 2 è tutto anche per oggi, grazie mille a tutti per essere passati e ci sentiamo al prossimo video, ciao!